Daniele Vecchioni a cui diamo il benvenuto. Dici un po' chi è Daniele Vecchioni per le poche persone che non lo conoscono ancora e poi così si capisce il senso della diretta di oggi che fa parte di questa pratica che si chiama Lezioni di Amor Proprio. Allora sono il fondatore del Metodo Correre Naturale che è il mio progetto di vita, la mia passione sono riuscito a trasformarla nel mio lavoro dopo anni e anni di sacrifici, sudore, impegno però faccio tante altre cose, quindi oltre a far l'educatore, il formatore nell'ambito del movimento, di corsa e movimento, mi definisco un esperto di movimento e di corsa, faccio anche l'imprenditore, quindi porto avanti un'azienda, l'azienda che ho fondato insieme alla mia compagna, Life Worth Living, cioè una vita degna di essere vissuta. Qui arriviamo al discorso movimento, pensiamo che basti che il corpo si muove e attiva i muscoli e attivi i muscoli per essere qualcosa di migliore della sedia, invece tante volte bisogna riflettere sul che cosa succede se tu stai seduto per due, tre, quattro ore su una palla instabile, perché è vero che il tuo corpo sta facendo più movimento rispetto a quando sei seduto su una sedia, ma bisogna capire se quel movimento è funzionale, se è utile dal tuo corpo, perché ti potrei dire vengo lì e ti prendo a calci nei maroni, ovvio che ti fai un po' di sforzo, a proposito di palla, ovvio che fai un po' di sforzo, però non è utile, quindi tutto può essere utile e tutto può essere non utile, dobbiamo metterlo in un contesto. Quindi dipende anche dall'obiettivo, insomma. Bravo, bravo. Se tu dovessi battere il Guinness World Record di chi sta più seduto su una palla instabile, ti direi passaci la maggior parte delle tue giornate. Bisogna anche lì capire qual è, bisogna indagare su qual è la nostra quotidianità, perché dicono mi fa male la cervicale, ho problemi di postura e poi non si rendono conto che passano la maggior parte delle giornate davanti a un computer in questa posizione. Quindi non è che puoi scegliere una palla o alzarti in piedi, andare a fare 40 minuti di allenamento in palestra ti cambi qualcosa. Ovvio, facciamolo rispetto a non farlo, ma non è la soluzione, non è la chiave di volta. La chiave di volta è capire quali sono le posture che utilizzi nella maggior parte del tempo nella tua quotidianità. Il corpo diventa bravo a fare quello che gli facciamo fare più spesso. Quindi oggi siamo tutti comunque sempre con un cellulare in mano e se io sto con il cellulare in questa posizione, ovvio che il collo va a fare un lavoro che non dovrebbe fare da essere umano, se andiamo a parlare di come madre natura ci ha intesi per muoverci. Quindi che cosa succede? Che un consiglio per non andare a faticare il collo, per esempio, lo so che è un consiglio stupido, considerando dove stiamo andando, cioè la gente ti prende per pazzo magari, però è usare il cellulare a questa altezza, così che il collo non vado a sforzarlo. Non è una norma oggi perché nessuno si metterà a scrivere così. Detto questo io lo consiglio, è una cosa che faccio perché non voglio trovare... Con due mani quindi. Sì, se sei forte con una mano potresti andare... Poi il discorso è proprio quello di riuscire a metterlo in un punto dove non devo andare a compromettere la postura del collo. Questo è uno tra le tante cose, il computer. Io per esempio faccio così, che avevo scogitato questo stratagema, metto il gomito sotto, cioè il braccio sotto il gomito in modo tale che ce l'ho così. Bravo, bravissimo. Bravo, guarda, organizzarsi proprio per non cadere. Poi ovvio che se lo fai ogni tanto non è un problema, ma se te ci lavori con il cellulare e questo parte da un'analisi del movimento personale, perché ognuno deve capire qual è la sua routine quotidiana. Io per esempio che sto spesso davanti a un computer per fare webinar, far dirette, per lavorare, mi sono strutturato con una standing desk, proprio perché c'è una scrivania, adesso ho una scrivania qui sotto, e metto addirittura un libro per alzarla a un livello dove non devo andare magari poi a piegarmi o a faticarmi. Quindi una volta che uno capisce quali sono le mansioni principali o l'utilizzo principale che deve fare del proprio corpo, allora deve trovare degli escamotage per non far sì che quello che sta succedendo oggi, queste innovazioni, creare problemi. Ora, io so che quando sono in macchina devo guidare da seduto, ancora le macchine di Fleastons non ce l'ho, quindi guida sto seduto, se devo viaggiare sto seduto nella durata nel mentre del viaggio, se devo, quando mi siedo a tavola per mangiare sto seduto, quindi so già che se una giornata devo viaggiare molto, cercherò di passare quanto più tempo possibile in piedi in altre posizioni. Se nella mia giornata so che passerò molte ore al lavoro da seduto, allora mi strutturo in modo da iniziare a dedicarne alcune in altre posizioni, che può essere stare in piedi. Quindi se ho capito bene è una sorta di compromesso, cioè volersi bene, che poi è l'argomento di cui mi occupo e di cui tratta la diretta, la chiacchierata di oggi, può voler dire anche capire qual è la percentuale di tempo che io dedico a una postura che non mi fa tanto bene e di conseguenza stabilire le azioni, i movimenti e quindi fare delle scelte che mi vanno a far recuperare quello che magari devo fare per forza. Insomma, se una persona deve stare in ufficio otto ore seduta, perché magari deve lavorare al computer oppure ha un rapporto, un lavoro che ha il rapporto col pubblico, quindi magari devi stare seduto o anche tanto in piedi, allora di lì vai a capire qual è l'azione, se ho capito bene, quali sono i movimenti, le azioni, le scelte che ti vanno a far recuperare l'impatto di tutte quelle ore e ti fanno anche magari correggere dei potenziali errori che ti portano a dolore. Bravissimo, è un cercare che a volte non lo si trova e quindi bisogna fare delle scelte magari drastiche, radicali o iniziare a organizzarsi in modo diverso per poter star bene. Per far questo la prima cosa parte dall'amor proprio, cioè se io non sto bene fisicamente, perché la prima cosa ragazzi si parla molto di testa e è fondamentale, ma il corpo che poi è il vostro tempio è questo, sì, chiamiamolo psicofisico, se io non sto bene psicofisicamente io non posso rendere in nessun'area della mia vita, se io non sto bene fisicamente, se ho un dolore, un infortunio, se sono depresso, se non ho un corpo che possa farmi esprimere per la persona che sono, io non posso essere il miglior papà che voglio essere, non posso essere il miglior imprenditore, il miglior formatore, non posso essere il miglior compagno, non posso essere la persona che vorrei in tutte le mie aree della vita. Quindi partire da un amor proprio è fondamentale, secondo me è il più grande atto di altruismo che possiamo fare. possiamo declinarla così, io non sono egoista perché voglio star bene continuamente, lo faccio perché se sto bene io riesco a star bene con gli altri, se io non sto bene divento la persona più egoista del mondo, perché poi ovviamente sono gli altri che devono prendersi cura di me o divento in alcuni casi una persona negativa, bravo, o un peso intrattabile, quindi l'amor proprio parte da questo. E allora che devo fare? Devo capire come si fa per star bene, io me lo sono declinato. Eh, come hai fatto a trovare questo compromesso? Perché magari può essere la tua esperienza di ispirazione per qualcuno, qualcuno sta anche scrivendo, che non è facile, insomma, in certe circostanze della vita, avere amor proprio. Io lo raccolto nel mio libro, come ho fatto, come hanno fatto i cinque personaggi, e tu come hai fatto? Qual è stata la cosa che ha fatto fare lo scatto, no? Da vita soddisfacente, insomma, di successo per gli altri, no? Per il mondo esterno, ma poi mancava qualcosa internamente, e come hai fatto a creartela, a raggiungerla? Allora, nel mio caso è stato un percorso, la goccia ha fatto traboccare il vaso, e sono arrivato a prendere a un certo punto una decisione drastica, perché quello che stavo facendo, mettendolo in proiezione negli anni futuri della mia vita, avevo capito definitivamente che non era ciò che avrei voluto fare. Non stavo bene fisicamente, stavo perdendo di vista me stesso a 360 gradi, fisicamente, mentalmente, energeticamente, a livello di felicità, e quindi lì quello mi ha fatto capire che non stavo andando nella strada giusta, e allora sono ripartito da capo. A volte bisogna anche ripartire da capo. Molte persone che trovano... Poi, di nuovo, io vi sto parlando dalla parte, ragazzi, del vostro benessere, della vostra felicità, della vostra salute e sostenibilità. Poi c'è qualcuno che mi può dire, lo so, questa è una scelta che io non posso fare, perché ho a carico una famiglia di cinque persone, e oggi non posso permetterlo. Però io sono dell'idea che a volte si trova il compromesso, a volte ci si è messi in una situazione dove un compromesso non c'è, quindi bisogna uscire da quella situazione. Ora, sono due scenari diversi. Il compromesso si può trovare se io mi accorgo che sto facendo qualcosa che non va, e con l'escamotage, come dicevi te prima, di controbilanciare a questo qualcosa che non va, con qualcosa che invece mi fa recuperare i danni che faccio lì, sia fisicamente che psicofisicamente che energeticamente, e uno trova il giusto bilanciamento, ci può stare. Ci sono quei casi in cui invece questo non accade, e a volte bisogna, per star bene, prendere delle decisioni. Allora, io dico, ragazzi, occhio, perché se uno fa una vita in cui è seduto 14 ore al giorno, non riesce a muoversi, non è felice, non riesce a esprimersi, non ha possibilità di star bene, allora vuol dire che deve rivalutare alcuni aspetti della propria organizzazione, delle proprie priorità. Adesso, una cosa che potrebbe, secondo me, essere utile per le persone collegate è, da una parte, dire, ok, cosa possiamo fare, perché c'è una cosa che tu promuovi, nel senso, come approccio, che a me piace tantissimo, che è lo snack del movimento, di movimento, insomma, e quindi, cosa si può fare per fare quel recupero, quella sorta di riequilibrio, quando uno ha una vita sedentaria, poi, piccola parentesi, è vero che a volte i compromessi è difficile trovarli, ma proprio perché si chiamano compromessi, vuol dire che sta a noi cercare il margine d'azione, il varco, no? Cioè, in una situazione difficile, la soddisfazione è dove ce l'hai, dal fatto che il varco te l'hanno proposto gli altri, perché era palesemente lì, oppure perché tu ti sei ingegnato a trovarlo. Cioè, secondo me, correggimi se sbaglio, la soddisfazione è proprio trovare un compromesso laddove, in teoria, sarebbe impossibile fare movimento, fare esizio fisico, andare a correre, perché comunque, alla fine, se ci pensi e se ti togli, insomma, tutti gli ostacoli e cerchi di trovare le soluzioni, alla fine ti rendi conto che se voglio andare a correre e se vado a letto prima, mi posso svegliare prima, anche se ho una famiglia, no? Io quante persone conosco che hanno figli, lavorano, quindi non è che hanno solo i figli, ma quindi lavorano, hanno figli, sono donne e si svegliano, quindi non è solo gli uomini, ah, è facile per gli uomini, ma anche donne che si svegliano, vanno a letto prima, si svegliano prima, ovviamente dormono quelle otto ore che è minimo sindacale per riuscire a recuperare e riequilibrarti, e recuperano le energie e vanno a fare mezz'oretta, magari iniziano con un quarto d'ora, mezz'ora e riescono a iniziare la giornata tutto in un altro modo rispetto a svegliarsi con la sveglia che la stoppi sette, otto volte prima di alzarti e ne so qualcosa, perché in certi momenti della mia vita mi accade, ma magari sono momenti in cui non ho qualcosa di motivante da fare, no? Però sta di fatto che alzarsi, che già hai dovuto rimandare la leva, oppure perché qualcuno ti ha svegliato, oppure perché è un obbligo, quindi un dovere ti ha svegliato, è già diverso dal volersi alzare perché vado a fare una cosa per me che mi fa bene, che mi fa affrontare la giornata in modo diverso da tutti gli altri. E quindi il compromesso, oppure torni dal lavoro, ti prendi, cioè non è che, come scrivo nel libro, non è che volersi bene vuol dire mandare a quel paese tutto il resto e esisto solo io, cioè il compromesso è proprio il volersi bene, perché alla luce del fatto che se uno si vuole poco bene o non si vuole bene, non ha tempo e non ha avuto tempo di farlo, vuol dire che devi trovare a maggior ragione un compromesso, perché non è che puoi azzerare tutto, dici da oggi inizio a volermi bene. Quindi secondo te, quale può essere, cos'è questo snack del movimento, adesso non so se si chiama proprio così, a me mi è rimasta impressa la parola snack associata al movimento, che è eccezionale, è geniale, che è una cosa da cui magari potrebbero iniziare le persone che fanno fatica a trovare dei momenti per l'esercizio fisico. Assolutamente, ma tante volte basta poco per cambiare situazioni in cui uno magari non si sente bene. Io lo chiamo snack di movimento o snack motorio, ed è proprio il discorso parte dal fatto che il movimento, così come l'alimentazione, è un nutrimento per il nostro corpo, cioè il nostro corpo ha bisogno di muoversi. Anzi, se lo mettiamo proprio a livello atavico, noi riusciamo a mangiare solo dopo che ci siamo mossi per cercare da mangiare. Non è un qualcosa che non c'erano i frigoriferi, tutto è in deficit calorico in natura. Per guadagnartelo devi muoverti. Quindi è ancora più, a livello proprio del cervello, del nostro corpo, più importante. Il movimento è qualcosa di fondamentale. In questa società oggi possiamo farne a meno, è quella la fregatura. Possiamo fare a meno di muoverci quando invece è una necessità biologica muoversi. Allora dobbiamo trovare degli escamotage, ovvio la soluzione non è quella di andare a fare gli eremiti in un eremo e stare... O meglio, benvenga per chi se lo possa permettere, ma bisogna trovare, io dico sempre, gli escamotage per riuscire a vivere nel modo più naturale possibile, in un modo normale, che è diventato normale. E allora lo snack motorio è un qualcosa di molto molto utile, che si può fare in qualsiasi momento, che anche qui a seconda del qual è la nostra quotidianità. E oggi, che in molti stanno lavorando i smart working, diventa ancora più facile, perché magari in ufficio, se ti mettevi due minuti a fare un esercizio a terra, ti prendevano per matto a casa tua, o meglio, o non te lo permettevano, a seconda della realtà in cui occuperavi, adesso a casa tua sei libero di gestire il tuo corpo, di esprimerti magari in modi diversi. Lo snack motorio è quello di prendere e farsi una passeggiata di due, tre, cinque minuti. Il nostro cervello, se ci muoviamo, si ossigena, arriva più sangue, cioè arriva più ossigeno, e quindi cambia completamente l'aspetto, la macchina che siamo aumenta di performance. Poi se lo mettiamo nella corsa e sappiamo correre, lo facciamo in un modo consapevole, queste performance aumentano in modo esponenziale, perché portiamo il corpo a una ventilazione, a un'ossigenazione senza pari, e allora diventa potente. Quindi, diverse sono le cose che si possono fare. Snack motori semplici, come dicevi te prima, non bisogna pensare, dai, da domani rivoluziono tutto. Dicevo, consigli pratici da iniziare a mettere già, davvero da domani, da stasera in azione, è proprio quello di mettersi, io, vi dico quello che faccio io, e che consiglio di fare, mettere una sveglia ogni, non so, io la metto ogni 40 minuti, o 45 minuti, poi a volte la metto di mezz'ora, a volte di 20 minuti, a seconda di qual è poi l'attività che sto facendo, e appena suona la sveglia, stacco e faccio uno snack motorio. Gli snack motori possono essere diversi, uno può essere quello di prendere e fare 2-3 minuti una passeggiata, se siete in ufficio andate avanti e dietro, se avete la possibilità di stare a casa, passeggiate o dentro casa, se avete un giardino o un giardino, se volete scendere un attimo, scendete, quindi la fantasia poi è il limite. Due potrebbero essere degli esercizi, uno è lo squat naturale, quindi scendere in una posizione che va anche a fare manutenzione alle articolazioni, ai tendini, ai muscoli, riallinea il bacino, srotola la schiena, quindi utile per tutte quelle problematiche che spesso la persona, le persone che lavorano tanto sedute hanno. Tre, uno snack motorio semplice potrebbe essere quello di mettersi in piedi e sollevarsi sulle punte dei piedi per attivare la pompa del polpaccio e del piede, e quindi iniziare a fare, già che ci si alza in piedi da seduti, è una standing ovation per il corpo. Se ci mettiamo un po' di movimento e utilizziamo il pompaggio di chi deve pompare, piedi, polpacci, qualche saltello, anche questo ci mette in movimento tutto. Quattro, possiamo fare degli esercizi fisici, che potrebbero essere il plank, non so se conoscete l'esercizio del plank, il ponte per i glutei, possiamo fare dei push up, dei piegamenti sulle braccia, io ad esempio in ufficio al lavoro abbiamo delle mini kettlebell, dei mini pesetti, quindi si possono fare degli esercizi proprio per ossigenare e muovere il corpo. Anche lì ci si può appendere a una sbarra, l'hanging è uno dei migliori esercizi in assoluto, quindi io sia a casa che... Ti allunga la colonna. Bravissimo, oltre ad allungare la colonna, lavora sulle spalle, ti apre, fa la gravità, va a far sì che anche tutto il corpo si rilassi in un modo ottimale, quindi io a casa ce l'ho, in ufficio ce l'abbiamo, un hanging bar, si trovano anche davvero a poco da mettere sulle porte, sono cose di investimento minimo, che però portano un risultato enorme. E se a fine giornata, di una giornata lavorativa di otto ore, si lavora ancora otto ore, perché io sto intorno alle quattordici, sedici, qua otto ore sembra partaglio. La Cinzia dice quanto deve durare, mi sembra di aver capito due minuti, giusto? Due, tre minuti? Anche cinque. Dipende anche qui, sì, dipende anche qui da qual è il beneficio che ne volete ottenere. Io a volte faccio dei circuiti di otto minuti, a volte mi bastano due minuti, se magari sto lavorando in piedi, basta che mi muovo. Quindi sì, partire da due minuti, il minimo indispensabile sono due minuti. Poi non è la stessa cosa. E' quello che ti porta anche a farne di più. Cioè, se tu parti dall'idea che devi fare due, soprattutto se fino a quel momento non ce l'hai mai fatta, per esempio c'era un commento di una persona che diceva che non riesce, no? E vede il fatto di fare esercizio fisico, una camminata, una corsa, come uno sforzo talmente forte che preferisce non far nulla, no? E questo capita spesso, purtroppo, perché il nostro cervello funziona per leve, no? C'è la famea leve comportamentale, leva dolore, leva piacere. Cosa vuol dire? Che io associo dolore a un'azione e faccio leva sul dolore per non farla. Mentre se io faccio leva sul dolore di non farla, allora magari mi smuovo e comincio a fare qualcos'altro. Però se poi vado a fare qualcos'altro che è più faticoso e più doloroso, torno di nuovo sulla via precedente. Quindi, un punto di partenza può essere questo che dici tu, che poi ne parlo anch'io insomma nel mio libro, del fatto di partire da una cosa semplice, piccola, perché è una cosa semplice, piccola, intanto il tuo cervello non ti fa posizione, no? Se io penso che devo andare a fare due minuti di camminata, magari il tragitto è di andare in bagno. Cioè, se poi a volte non ci accorgiamo, ma se noi cronometrassimo il tempo che stiamo sul cellulare, il tempo di, perché le persone, correggimi se sbaglio, a volte pensano che questo distrarsi, distrarre la propria mente, sia da seduto, vada a vedere il telefonino. Il problema è che quando vai a vedere il telefonino, guarda, se chi è collegato, se le 200, 300 milioni di persone collegate andassero a cronometrarsi quando fanno questa cosa, si renderebbero conto che non sono due minuti, sono molti di più. Cioè, a volte me lo dicono delle persone esterno, ah no, sei stato 15 minuti, a me mi sembrava di aver risposto a un commento, perché lì è un continuo flusso di dopamina, la dopamina è quella che ci motiva e l'aspettativa che ci sia una conseguenza di quell'azione, quindi vado a vedere la notifica, commento, aspetto che arrivi la risposta, mi fa perdere di vista lo scorre del tempo, come quando facciamo qualcosa che ci piace, no? Quando tu corri o fai qualcosa che ti piace, il tempo vola, no? Quando fai qualcosa che devi fare, madonna, anche oggi, dopo, il tempo non passa mai, il tempo è sempre lo stesso, è sempre lo stesso, è la percezione del tempo che cambia. Quindi, quando tu fai qualcosa di semplice, appunto, di due minuti, non ci sono quegli ostacoli della mente, perché dici, vabbè, due minuti li puoi fare, no? e soprattutto, quando tu li fai, ti rendi conto che li hai fatti, che hai ottenuto un beneficio, perché effettivamente anche muoverti un po', per due minuti, un beneficio ce l'hai, no? Per cavolo. E quindi dopo, sei tu stimolato, almeno, questo capitava a me quando ho iniziato a fare un po' di ginnastica, un po' di esercizio fisico nella mia vita, dopo aver fatto 15 anni di basket, ho avuto un periodo di totale stasi, cioè vita sedentaria totale, proprio, ma neanche camminata, proprio niente. E quindi, esatto, quindi dolore alla schiena, stress, perché poi la vita sedentaria, come anche in quella volta che ci siamo incontrati tu insegnavi, produce stress, invecchiamento, aumenta l'invecchiamento e produce danni, quindi non è solo una questione di volermi bene, è una questione di salvarmi la vita, cioè è ancora di più, il fatto anche di avere un gruppo, il gruppo ti traina, tu hai creato una community di persone che sono appassionate di corsa e loro non fanno fatica a svegliarsi la mattina o, che ne so, al pomeriggio, la sera, adesso non so, agli orari, andare a correre, perché sanno che c'è un gruppo a cui appartengono che lo fa e questo ti dà una forte carica, una spinta potentissima, perché il senso d'appartenenza è uno dei bisogni umani più forti che ci spinge a muoverci è oltre a bisogno di sicurezza è anche quello di appartenenza, se io mi sento di appartenenza ad un gruppo, allora la scelta del gruppo dipende da noi, se anche tu sei circondata, circondata, adesso non mi ricordo che era questa persona, da persone che non fanno questa cosa, non bisogna colpevolizzarle o come dice qualcuno, elimina i vampiri energetici, no, lascia stare i sentimenti negati, lasciali agli altri, ma scegli tu le persone da cui farti ispirare, il gruppo che ti possa trainare, perché in gruppo è più facile, mi confermi, no, che è così, cioè la community, il gruppo di persone che ti segue, che comunque è appassionato di corsa, si fa forza tra di loro, giusto? Assolutamente, anzi, poi quando entri in un, anche lì, io, quello che sto cercando di fare è proprio creare una cultura della corsa, quindi far capire alle persone che la corsa è benessere, che la corsa è felicità, che si può correre, non bisogna necessariamente fare una fatica bestia, anzi, che meno fai fatica e più riesci a godertela, più benefici ne hai, ovviamente c'è da seguire determinati step per arrivarci, e soprattutto, questo è importante, bisogna saper stare in piedi correttamente, siccome, e questa, adesso apro un vaso di Pandora, però una cosa che io porto spessissimo alla luce durante i miei corsi o in tutto quello che faccio, è far capire alle persone che oggi non ci sappiamo più muovere, ma non muovere, fare il salto carpiato, non sappiamo più stare in piedi, non sappiamo più camminare, non solo correre, a me arrivano persone che vogliono imparare a correre, io li riporto a saper camminare, li riporto a saper stare in piedi, a volte li rimetto a gattonare, ma non perché sono sadico che li voglio vedere a quattro zampe, perché è un processo di apprendimento, di schemi motori, di come funziona il corpo umano, e tornando al discorso che in questa società ci muoviamo sempre meno, che stiamo seduti tanto fin da quando siamo piccoli, e che non facciamo educazione fisica nel corso della nostra vita, molte cose dobbiamo riappropriarci, dobbiamo riprenderne le competenze motorie e le abilità, oltre che fisica e meccanica e anche probabilità motorie. È un problema stare in piedi se non hai piedi per stare in piedi correttamente, non è che ti possa insegnare la postura, c'hai mai giocato con i pupazzi, sono pupazzi che in piedi non ci stanno, perché hanno una massa e piedi piccoli non stanno in piedi, quindi serve l'hardware, la struttura corretta per poter poi sfruttare il nostro corpo, e le piedi sono le nostre fondamenta, un albero, se un albero grande non ha le radici, cade, cioè servono le fondamenta e quelli sono i piedi, quindi si apre un discorso sui piedi. Alcuno dice, anche per chi ha più di 60 anni? Oggi a 60 anni ragazzi siete giovani, cioè oggi in questa società in cui le aspettative di vita arrivano a 90-100, bisogna arrivarci bene, ancora di più, cioè non è mai troppo tardi. Allora, sia i benefici sia i dolori, cioè se io non faccio nulla e ho comunque una proiezione di vita adesso rispetto agli anni passati più ampia, come la voglio? Voglio che sia un calvario oppure voglio che sia colgo l'opportunità, cioè se io sapessi che domani muoio, la vita di oggi cerco di fare tutte le cose che mi fanno stare meglio e non è solo per soddisfare il palato, cerco di fare, se mi manca poco, cerco di fare le cose che magari ho sempre trovato scuse per non farle, magari perché dico ah, poi le farò, cioè cerco di vivere quel tempo che ho al massimo e con tutte le cose del benessere psicofisico che non ho potuto fare prima, è l'opportunità, cioè se io anche ho 70 anni, inizio adesso, perché comunque se ho 10, 20, 30 anni, questi 30 anni hai l'opportunità di viverli meglio di come li hai vissuti prima, cioè la scelta di quel lasso di tempo che poi ci separa dalla morte è la nostra, in parte anche la nostra di come poterla vivere, possiamo scegliere di non fare nulla e scegliamo comunque di non fare nulla e viverla poi per quello che ci meritiamo, oppure scegliere di fare qualcosa di nuovo, un pochettino di nuovo ogni giorno per dire cavoli, ho vissuto 30 anni in più, 20 anni in più, 40 anni in più, ma li ho vissuto come ho scelto io, cercando di fare, trovare il compromesso ogni giorno laddove prima trovavo solo scuse. Caspita, quando ti giri che sei sul letto di morte, ti giri verso il tuo passato, che soddisfazione hai piuttosto che rimpianti? Quindi Io tutto quello che sto facendo oggi lo sto facendo anche con l'ottica di quello che sarà in futuro, le mie scelte sportive sono anche in ottica di sostenibilità, perché io oggi potrei allenarmi ad ammazzarmi di allenamenti e 35 anni un corpo preparato li sorreggerebbe, detto questo tra 5 anni io tra 5 anni voglio star più in forma di oggi, io a 50 anni voglio arrivare a essere più in forma di come stavo oggi, voglio essere un esempio, una dimostrazione che si può fare, cioè io voglio arrivare a fare un Iron Man a 80 anni e non perché voglio far vedere, ma per me, per avere una prospettiva di vita in cui mi sento sempre, io mi vedo forte anche a 80 anni, però devo iniziare a investire oggi, io sono 35, chi c'è una 40 deve iniziare a 40, chi c'è una 50 inizia a 50, chi c'è una 60 inizia a 60, se non l'avete fatto fino a ieri in miglior modo io ho iniziato a 38 per esempio a cominciare a 37, 37, 38 a volermi bene e devo dire che oggi con tutto che la mia vita è forse più impegnata di ieri o più impegni di ieri cioè del passato oggi mi sento più in forma di ieri, cioè non mi sento a un quarantenne suonato a 40 anni oggi siamo sono i nuovi 20 è quello il discorso e soprattutto il miglior modo il miglior momento per iniziare se non l'hai fatto ieri e oggi per prendere le generazioni oggi di adolescenti non si muovono più la maggior parte scuola computer cellulare playstation o quel che sia compiti meeting virtuali e non ci si è mossi oggi è una delle epidemie più grandi è quella del mancato movimento come facciamo? dobbiamo iniziare a volerci bene dobbiamo iniziare culturalmente a far capire che il movimento deve essere premiato come faccio a premiare il movimento perché se no dobbiamo arrivare a livello di consapevolezza che il movimento non deve essere un'opzione non è un'opzione e non è neanche sport lo sport è un'altra cosa perché tante persone dicono ah dai oggi ho fatto la mia camminata di un'ora ok quella non è che hai fatto qualcosa in più quella è una cosa che devi fare per necessità biologica non è che se bevi due litri d'acqua sei stato bravo lo devi fare per sopravvivenza cioè capisci che intendo quindi fin quando non entriamo nella logica che il movimento è necessità biologica è vitale è fondamentale non è un'opzione e allora gli esca a motage allora i snack motori allora iniziamo a camminare quando facciamo dei meeting in pausa pranzo usciamo perché poi il camminare non è solo che stiamo facendo un movimento è che sto facendo un movimento sotto al sole con l'aria buona stacco la testa faccio lavorare ossigeno ossigeno serotonina serotonina tutta la cascata ormonale la manetta finisco che sto meglio sono in pace con me stesso quindi se i neurotrasmettitori come la serotonina sono scarsi perché? perché c'è troppo cortisolo nel corpo e quando è che c'è troppo cortisolo? anche quando fai una vita sedentaria quindi nel momento in cui tu hai poca serotonina nel tuo corpo la mente non potrà essere libera e quindi se non potrà essere libera e tu deleghi alla mente libera il tuo fare movimento non esci più non esci più perché lo stress e quindi l'assenza di neurotrasmettitori o la scarsità di neurotrasmettitori è collegata proprio al fatto che non fai movimento e lo stress esiste per muoverti dal pericolo lo ripeto sempre forse qualcuno ormai si è pure scocciato che lo ripeto spesso ma lo continuerò a ripetere nel momento in cui leggo di qualcuno e mi dispiace che pensa che il movimento venga dopo cioè io ci tenevo tanto a fare questa diretta con Daniele perché il punto di partenza fra l'altro proprio la corsa negli ultimi anni ho scoperto che nel momento in cui corri e confermami correggimi se sbaglio insomma nel momento in cui corri viene rilasciato il BDNF che è un fattore di crescita neuronale quindi vuol dire che tu quando corri rinforzi la memoria vai a ripristinare i danni ai neuroni che ha fatto la vita sedentaria e non solo ti aggiungo in più che molti pensano che correre faccia male alle ginocchia che correre faccia male alla schiena quello è correre male ma lì stiamo parlando di un'altra cosa non stiamo parlando di corsa correre bene rafforza le ginocchia va a costruire massa ossea va a rafforzare le articolazioni le cartillagini va a mantenere sana la muscolatura ai tendini quindi è cervello muscoli ossa articolazioni parliamo della macchina uomo e parliamo di movimenti non di sport ma di movimenti se la corsa c'è nell'essere umano come forma di locomozione qualcosa dovrà pur servire no? anche perché quello che non viene usato nel nostro corpo non perdi viene diminuito viene eliminato quindi se il muscolo perché si perde massa muscolare perché non viene usato in quel muscolo perché quando si è più anziani dice ah non posso fare perché sono anziano no è perché la massa muscolare non la tiene in allenamento l'invecchiamento se l'abbiamo tutti ma possiamo anche rallentarlo e ci sono dei comportamenti che invece lo accelerano la vita sedentaria cioè è pari all'assenza di gravità tanti astronauti hanno nel periodo breve che stanno in assenza di gravità invecchiano lo dice spesso anche il dottor Ongaro che ha seguito gli astronauti insomma quel periodo così breve è a livello di invecchiamento lo stesso di 10-20 anni di una persona che sta a terra normale perché è assenza di gravità stare seduto io sto seduto in quel momento certo ci sono le gambe della sedia che mi tengono su ma stare tanto tempo in assenza di gravità mi porta ad invecchiare ancora di più e se non uso quei muscoli si restringono si accorciano e poi è ovvio che sono gobbo e se sono gobbo vado a comprimere i muscoli e vado a comprimere anche gli organi il cuore il cuore dopo io l'ho vissuto in prima persona spesso ancora tendo sto facendo tanto lavoro di rinforzo per addrizzarmi già sono più dritto di qualche anno fa ma stando così oltre al fatto di non permettere lo sviluppo della tua muscolatura e quindi dopo si va a deteriorare vai anche a comprimere quei muscoli come intestino ha problemi di intestino guarda caso ho sempre avuto problemi di intestino nel periodo soprattutto che stavo gobbo e chissà come mai quando stavo gobbo ero anche facilmente mi intristivo facilmente ero facilmente abbattuto per le vicende le difficoltà che avevo era tutto collegato il fatto che il cuore poteva se io sono tutto curvo o comunque sono una postura in chiusura il cuore non riesce a pulsare come dovrebbe mentre se ho un'apertura della cassa toracica e questo può essere anche fatto attraverso la corsa il cuore riesce a pompare meglio e se pompa meglio pompa più sangue più ossigeno dove? nel cervello ecco perché è così collegato il fatto di correre anche alla memoria caspita uno vuole avere delle prestazioni mentali vuole anche comunicare meglio riuscire a trovare i problemi riuscire a trovare la soluzione ai problemi devi partire da lì devi partire dalla chimica dalla chimica tanto è quello ossigeno alle cellule la salute è aerobia l'ossigeno che deve arrivare alle cellule cellule tutto il corpo e come facciamo ad aumentare questo rifornimento con il movimento il movimento ovviamente consapevole perché se poi la gente va fuori e si ammazza di allenamenti ad alta intensità allora lì cambia tutto che non vuol dire che non vadano fatti vuol dire che vanno fatti con moderazione con corpi che sono pronti a sostenerli però il movimento di base dell'essere umano che non può mancare nemmeno un giorno della propria vita è proprio il movimento quello vitale il movimento aerobico dello spostamento perché siamo fatti per spostarci quotidianamente a piedi poi di nuovo escamotage scendi prima due fermate prima dall'autobus due fermate prima dalla metro vai a lavoro a piedi se te lo puoi permettere vai a fare la spesa a piedi vai a prendere il tuo figlio a piedi metti la macchina lontana inventati qualcosa però fatti 20 minuti per arrivare al lavoro e 20 minuti per tornare hai già fatto 40 minuti di camminata nella tua giornata che fino a ieri non facevi sommali per una settimana sommali per un mese sommali per un anno ti vengono fuori delle cifre stratosferiche somma il benessere che ti dà questa piccola azione nella tua vita c'hai un vantaggio clamoroso poi aggiungi quello aggiungi lo snack motorio aggiungi che ti prendi una standing desk e ogni tanto lavori in piedi aggiungi che la sera prendi quei 20 minuti mentre sei davanti al televisore mentre stai mandando gli ultimi whatsapp mentre parli in famiglia mentre mediti per far manutenzione al corpo esercizi di mobilità articolare un po' di stretching e vai a completare quello che è il minimo che puoi fare al tuo corpo e che già gli stai dando del nutrimento motorio fondamentale poi se ci sono degli obiettivi da raggiungere se si vuole portare vedere si vuole superare alcuni limiti personali poi lì si possono scegliere dei percorsi quindi c'è chi la corsa la usa per star bene quotidianamente con se stesso c'è chi la usa per raggiungere degli obiettivi di distanza o di velocità c'è chi la usa per competere ma sono declinazioni diverse io dico scoprite il movimento prima e quella è la base poi a seconda di quello che è la vostra età il vostro tempo a disposizione le vostre velleità andiamo in altre strade però non potete permettervi e qui provoco di non saper stare in piedi camminare e correre correttamente non per la performance ma per il benessere questo è la mia è il mio punto di partenza su tutto molti pensano che io porti le persone a non raggiungere performance no io sono per il raggiungimento di performance sostenibili perché se no non esiste la performance se non è sostenibile però sono dell'idea che le basi della performance siano saluto e benessere se non c'è saluto e benessere la performance non possiamo andarla a ricercare perché non sarebbe sostenibile e quindi come tutte le cose se non è sostenibile non funziona questo è un po' il riassunto di quello che bisogna fare nel libro proprio anche nel mio dico proprio che quando quando tu imiti qualcuno che comincia a comportarti così e questa imitazione può avvenire anche attraverso i social cioè la condivisione di qualcosa che è anche una cosa bella non è che stiamo dicendo delle cose assurde o negative quando è una cosa bella positiva comunque la condivisione quel gesto di condividere un pensiero fa capire da una parte che tu sei da quella parte lì e dall'altra parte stai aiutando magari ad aprire una finestra a una persona che altrimenti non l'avrebbe mai aperta quindi questo può essere e seguirti ad esempio sulla pagina social il tuo sito adesso il link del tuo sito è correnaturale punto punto com punto com e poi mi dicevi che c'è un'iniziativa un progetto che sta lanciando c'è un gruppo un gruppo che si chiama running culture di correre naturale che è proprio un gruppo dove possono iscriversi e dove dentro ci sono persone che portano esempio che quotidianamente condividono le proprie corse le proprie camminate le proprie esperienze con la cultura di correre naturale quindi quella del benessere quella della corsa come strumento per migliorarsi la vita che poi ogni strumento può essere usato in mille modi c'è chi in alcuni gruppi la corsa se entri e sei lento sei lo sfigato quindi si guarda solo la performance per me la corsa è lo strumento per migliorarsi la vita e in quel gruppo quella è la cultura che vogliamo creare se vogliamo concludere con qualcosa io invito veramente tutti a ricercare la felicità in modo tangibile si parte dal proprio corpo si parte dallo star bene si parte dal volersi bene e una volta che si ottiene quello poi ovviamente c'è da impegnarsi lavorare trovare quelli che sono i propri talenti crederci e molto spesso mettere anche le cose in prospettiva e definire quella che è il proprio successo personale capire qual è il mio successo personale voglio andare in giro in Ferrari o voglio raccogliere il ciliegie dall'albero mentre abbraccio mia figlia mentre sono in Ferrari mentre sono in Ferrari e quindi dopo lì è bello vedere i commenti delle persone leggere i commenti delle persone che mentre ascoltavano la diretta facevano qualcos'altro che poi è quello che faccio anch'io quando ascolto le dirette o di qualche collega o di qualche maestro insomma quando io seguo anche i videocorsi certo è ovvio che poi se quel videocorso devo scrivermi tirarmi giù qualcosa mi fermo però la maggior parte del tempo mentre mi muovo gli ascolto e quindi so perché lo faccio perché questo mi facilita la memorizzazione saluti ridenti ciao grazie grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti